In questo video vediamo un tool di intelligenza artificiale che riesce a riprodurre le voci perfettamente ed è stato bannato. Guardate questo video. Questo ragazzi non è Obama. Questo è un video fake in cui lui parla e dice qualcosa. E' stato bannato? In realtà no. E in questo video vediamo effettivamente come utilizzare questo tool, come fare i training sulla tua voce e come poter effettivamente scrivere un testo e farlo leggere dall'AI con la tua voce. Ragazzi guardate il video perché penso che il valore che ci sia in questo video sia inestimabile. Perché oggi vediamo solo questo perché è talmente bello ragazzi che è fantastico. Questo si chiama Eleven Labs. Effettivamente inizialmente c'è stato un articolo in cui hanno detto che era stato bannato perché sono stati fatti girare degli speech di Biden e Rogan che dicevano cose omofobe, razziste eccetera. Capite che effettivamente questi sono dei rischi che si corre utilizzando queste tecnologie. Perché? Perché possiamo far dire tutto a tutti ragazzi. Quindi vediamo qua che le applicazioni sono storytelling, news articles, newsletter, blogs, audiobooks. Si possono creare anche dei video YouTube nel quale si mette il testo e poi questi video YouTube vengono effettivamente... In qualche modo la voce è simile alla tua. Quindi sembra che li hai fatti tu in realtà l'ha fatto qualcun altro perché io posso delegare a una persona e scrivere il testo con GPT, mettere la mia voce, è come se io stessi facendo qualcosa. I content creator del futuro non faranno neanche più contenuto e questo è una cosa un po' creepy, non lo so ragazzi. Poi non voglio sbilanciarmi in questo giudizio. Andiamo a vedere il pricing che è la cosa fondamentale. Allora con 0€ forever ci sono long form speech synthesis, no commercial license, quindi se non pagate, non potete avere licenza commerciale, anche qui lascia un po' il tempo che trova perché vattene un po' a dimostrare che l'hai utilizzato su un commercial eccetera. Non lo so se ci sono dei modi però mi sembra abbastanza diciamo improbabile. Il limite più importante sono i 10.000 caratteri al mese, che sono tanti ragazzi, 10.000 caratteri al mese se vogliamo, no? Per giocarci soprattutto. Però con 5€ al mese ragazzi, che è pochissimo, abbiamo 30.000 caratteri e commercial usage e poi con 22€ al mese abbiamo 100.000 caratteri ragazzi. Diciamo che è buono. Allora per fare, come facciamo a iniziare? Andiamo su sign up, ok? Sign up, io mi connetterò con il mio account Google. Ok, I agree, I want, ok, no questo no. Poi facciamo Google, ok. Ci connettiamo con il nostro account. Una volta con essi, ci siamo. Andiamo su Speech Synthesis. Ok, qui abbiamo le varie voci che già ci sono, ci sono, che sono Conversational American. Vediamo se c'è l'italiano. No, ecco, un limite che abbiamo trovato, che non c'è l'italiano. Però ragazzi, adesso ci giochiamo lo stesso. Allora ragazzi, per provarlo, allora dobbiamo effettivamente pagare. Però abbiamo un mese gratis, ok? Quindi se volete poi provatelo un mese e poi non pagatelo. Quindi andate su Click Subscribe, ok? Mettiamo questo Starter in cui facciamo Subscribe perché abbiamo il primo mese gratis. Poi magari lo disinstalliamo. E qui mettete tutti i vostri dati alla vostra carta e pagate semplicemente. Ok ragazzi, ho messo la mia carta e adesso ho Voice Lab attivo. Andiamo su Voice Cloning. Ok, possiamo creare 10 voci personalizzate. Quindi clicchiamo Add Instant Voice. Diamo un nome a questa voce. La chiamiamo Silvio, mi sembra. E qui dobbiamo creare un file, ok? Un file che va a ascoltare la nostra voce. Andrò a utilizzare questi sei reel che ho creato. Un'ispirazione per diversi articoli. Per andare a fare training della mia voce. Quindi com'è che faccio? Posso effettivamente estrarre l'audio da questi video. In che modo? Sul Mac basta che clicco appunto questo file, lo apro, poi faccio File. Esporta come? Faccio solo audio, ok? Quindi effettivamente mi estrae l'audio. Se non avete il Mac ci sono tanti tool online con il quale farlo. Io creo una nuova cartella sul desktop. Scrivo Audio Training. Ok? E li metto qua. Salvo uno. Ok, ripeto il procedimento per tutti e sei. Ok, ho fatto il procedimento per tutti e sei. E adesso andiamo a effettivamente mettere questi audio sul software. Vediamo se effettivamente prende l'M4. Ok, andiamo a vedere. Sì, l'hanno presi, senza che devo convertirli. Ok, confirm. Qui ti dice che queste qui sono le voci tue. Se no vai in galera, morirai in galera. Quindi, perché effettivamente non vogliono che vai a prendere le voci altrui e creare degli audio con le voci altrui. Ok? Quindi faccio Add Voices. Ok? Aspettiamo un attimo. E ragazzi, lo abbiamo. Abbiamo Silvio. Ok, eccolo qua. Instant Voice Use. Ok? Allora, qui abbiamo Voice Custom Silvio. Ok, Voice Setting. Stability Clarity Plus Similarity Enhancement. Poi ci giochiamo. Una cosa di cui non sono sicuro, perché ragazzi, io questo esperimento lo sto facendo con voi per la prima volta, è che questo riconosca la lingua italiana. Ciao, sono Silvio. Vediamo un po'. Silvio. E questa è la mia voce AI. Non vorrei che non ha implementato l'italiano in tutto questo, ma lo scopriamo brevemente. Effettivamente è la voce mia, però con l'accento inglese, ragazzi. Ciao, sono Silvio e questa è la mia voce AI. Sembra un accendo inglese, capito? Hanno messo l'accento inglese sulla mia voce. Sulla mia voce. Questo è fantastico, però cavolo, ragazzi. Ciao, sono Silvio e questa è la mia voce AI. Andiamo a vedere su resource, andiamo a vedere su le faculty ask question. What maximum, ok? What language do you support? We currently only support English language. Caspita! Allora, lo sai che facciamo per creare effettivamente un video e vedere se funziona? Poi, tra l'altro, ragazzi, penso che breve rilasciaranno anche le altre. Vado su Memo vocali e vedo, e creo una memo vocale, ok? Crea un audio in cui leggo un testo in inglese. Vediamo, tipo, English, aspetta, AI Innovation. Prendo il IBM, ok? E incomincio a leggere un testo in inglese e vediamo effettivamente quello che succede. Allora, vado qua, registra, e ci siamo. After a decade of experiencing a slow burn, artificial intelligence innovation has caught fire to become the hottest item on the agenda supervised learning. Ok, ragazzi, ci siamo. Ho letto solo questo testo qua. Adesso faccio stop, ok, fine, ok. Prendo, la metto sul desktop, questo file, e quindi vado a fare training del mio modello, che non sarà più il modello Silvio, perché quello è stato fatto training con l'italiano, quindi faccio remove, remove voice. Però era carina, ragazzi. Già lì avete visto che era veramente carina, ok? E effettivamente mettiamo la voce, ok, della... Questa qua. Quindi facciamo new instant voice, chiamiamo Silvio Eng. Poi facciamo l'upload del file, che sta sul desktop, in teoria. Via privata... Ah, però non mi prende l'M4A a questo punto, perché? Vediamo un po'. Musica M4A, perché prima me l'ha presa, no? Ok, ragazzi, me l'ha presa. Se la carichi non te la prende, poi te la prende, ok. Add voice. Vediamo, vediamo. Sono curiosissimo di vedere quello che esce. Ragazzi, per inciso, più voci mettete, meglio è, ovviamente, no? Oh, siamo pronti? Qui scrivo... Hello. My name is Silvio. And this is my AI voice. Vediamo, siete pronti? Hello, my name is Silvio. And this is my AI voice. Ragazzi, fantastico. Fantastico. Vediamo, vediamo. Che poi, tra l'altro, adesso giochiamo un attimo. Andiamo a prendere un testo... Quello coletto. Hello, my name is Silvio. And this is my AI voice. Ragazzi, ma è uguale. È uguale. È uguale. Pazzesco. Ragazzi, ve lo dico subito. Non farò più video con la mia voce, ma farò video con questo appena esce in italiano. Ve lo dico. Vediamo. After decades of experiencing a slow burn, artificial intelligence innovation has caught fire to become the hottest item on the agendas of the world's necessity. Faced with a constant onslaught of data, we needed a new type of system that learns and adapts. And we now have that with AI, says Arvind Krishna, senior vice president of hybrid cloud and director of IBM Research. What was deemed impossible a few years ago is not only becoming possible, it's very quickly becoming necessary and expected. Ragazzi, non potete vedere la mia faccia, ma in questo momento c'ho veramente la mascella che è scesa fino al pavimento. Bocca aperta, acquolina alla bocca, perché effettivamente sta roba è una figata assurda. Appena esce in italiano, ragazzi, questo sarà effettivamente un tool che utilizzerò molto, ma molto, ma molto. Ok, immaginate tutta quella parte di ricerca che fai, che non voglio assolutamente fare. Lo faccio fare a sto tool. Easy, 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 lemmo, squeezy, come dicevano a Londra quando stavo là. Ragazzi, io spero che questo video vi faccia rimanere in qualche modo contenti, felici, eccitati come sono io in questo momento, perché l'ho voluto fare proprio con voi questo test, ho visto un video appunto americano di un ragazzo che lo presentava, poi ho detto adesso lo ripropongo in lingua italiana, però non l'ho provato prima, lo sto provando insieme a voi, quindi sto provando proprio questa eccitazione pazzesca. Io spero che effettivamente siete in qualche modo stupiti come lo sono io, fatemi sapere appunto cosa ne pensate sotto nei commenti. Se il video ti è piaciuto, mi raccomando, lascia un like, commenta, altrimenti il gattino poverino muore, ok? Iscriviti al canale, mi raccomando, la maggior parte delle persone che vedono questi video non iscrivono al canale. Volete avere un vantaggio sul mondo a livello AI, così che avete tutte le informazioni aggiornate da questa faccia da... Allora iscrivetevi, dai, è gratis, tra l'altro mi sopportate. Detto questo, Silvio Lucchetti Offline.